Musica Alta velocità Salerno-Reggio Calabria confermata nel piano entro il 2030 il completamento dell'intera tratta A Montecorvino-Rovella sequestrate due aziende agricole smaltimento illecito di liquami e abusivismo edilizio Agropoli, comunali 2022, l'avvocato Basile si candida a guidare il centrodestra 25 aprile, l'amministrazione comunale dona segnalibri celebrativi ai bambini delle scuole San Pietro Altanagro, il parco dei mulini per attività ciclistiche Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale Il piano nazionale di ripresa e resilienza punta tutto sull'alta velocità e tra i progetti principali è confermata la tratta della Salerno-Reggio Calabria con passaggio per il Vallo di Diano riducendo i tempi di percorrenza da Roma in poco più di 4 ore Ma vediamo i dettagli Illustrato ieri alla Camera e oggi al Senato il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia Piano che nei prossimi giorni giungerà sulle scrivanie di Bruxelles per l'approvazione definitiva Un piano che prevede anche la realizzazione di un'importantissima infrastruttura per il mezzogiorno e che toccherà anche il Vallo di Diano L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria Un progetto che inorgoglisce lo stesso Premier che ne ha parlato come strategica La Salerno-Reggio Calabria diventerà una vera alta velocità E su questo progetto si registra anche l'intervento del ministro Giovannini che ieri sera nel corso dell'intervista rilasciata a sette storie sul Rai 1 Ha sottolineato come la tratta che attraversa il Vallo di Diano sarà conclusa entro il 2030 data in cui sarà possibile grazie al progetto percorrere il tratto Roma-Reggio Calabria nello stesso tempo che occorre per coprire il tratto Roma-Torino Dal progetto infatti Roma-Reggio sarà raggiunta in 4 ore e 15 minuti addirittura meno di quanto si imbiega per raggiungere Torino Nel dettaglio del piano approvato dal Consiglio dei Ministri ed in fase di illustrazione al Parlamento viene spiegato che si estenderà all'alta velocità al sud con la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia confermata quindi la volontà di realizzare i primi lotti della tratta utilizzando i fondi del recovery Per ciò che riguarda nello specifico il progetto che interessa il Vallo di Diano si legge al completamento dell'intero progetto il tempo di percorrenza sarà ridotto di 80 minuti Altro punto che può interessare il territorio riguarda l'intenzione nel realizzare altri interventi di potenziamento dei collegamenti nazionali che riguarderanno diverse aree del Paese in particolare nelle regioni del sud Questi interventi, si legge nel piano, mirano a potenziare e rafforzare le linee ferroviarie regionali sostenendone anche il collegamento e l'integrazione con la rete nazionale ad alta velocità Un progetto questo che mira a favorire l'accessibilità all'alta velocità in termini di numeri di utenti riuscendo così anche a favorire un maggior ricorso alla mobilità sostenibile rispetto all'utilizzo dell'auto che al momento al sud è particolarmente diffusa Un passaggio poi anche per la riqualificazione delle stazioni attualmente esistenti Passaggio questo che interessa il Golfo di Policastro dove sono previsti interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità alla stazione di Sapri Voltiamo pagina, smaltimento illecito di liquami, abusivismo edilizio e abbandono di rifiuti speciali due aziende agricole sono state sequestrate a Montecorvino Rovella I dettagli nel prossimo servizio Due aziende agricole sono state sequestrate a Montecorvino Rovella per gravi violazioni alla normativa ambientale Denunciati titolari per smaltimento illecito di liquami, abusivismi edilizio e abbandono di rifiuti speciali rischiano fino ad un anno di arresto e 26 mila euro di ammenda In un caso, in prossimità del complesso aziendale, i militari della Guardia di Finanza di Salerno hanno notato degli scarichi sospetti con il sopralluogo si è scoperto provenienti da una rete di caditoi e di pozzetti ricavati in diversi punti dell'aria, sia all'interno che all'esterno attraverso i quali i refli venivano sversati in canali adiacenti per poi sfociare, a loro volta, nei corsi d'acqua limitrofi Inoltre, le varie strutture destinate al ricovero degli animali e alla mungitura erano state realizzate in via totalmente abusiva Tra queste, anche una di vita a recinto per cavalli per di più, in mancanza di un idoneo sistema di smaltimento i percolati derivanti dalla maturazione dei foraggi ammassati in vasche di fortuna si riversavano continuamente sul terreno Nel secondo caso, i finanzieri hanno riscontrato identiche violazioni alla normativa ambientale le acque reflu e ben visibili sul piazzale adiacente allo stabilimento dove formavano delle grandi pozzanghere venivano incanalate in una serie di tubature fino a raggiungere un piccolo torrente che più a valle incontra il fiume Tusciano Perlustrando i locali della ditta, sono inoltre stati scoperti detergenti chimici utilizzati per il lavaggio degli impianti e delle celle di refrigerazione del latte risultati altamente tossici sia per l'ambiente che per gli animali In entrambi i casi si è proceduto al sequestro delle condotte irregolari imponendone la contestuale chiusura Sotto il vincolo di cautela si trovano ora i diversi paddock costruiti senza autorizzazioni i due imprenditori, che dovranno intanto assicurare l'immediata bonifica dell'area e il ripristino dei luoghi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Salerno Cambiamo argomento L'Avvocato Giovanni Basile si candida a guidare il centro-destra alle elezioni comunali che si terranno ad Agropoli nel 2022 Nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa presso l'Aula Consigliare Alfonso Di Filippo per spiegare le motivazioni che l'hanno spinto a scendere in campo Vediamo Avvocato Basile, lei è pronto a illustrare il suo percorso in vista delle comunali ad Agropoli ci illustra quale sarà? Abbiamo iniziato a gettare un sasso nello stagno Agropoli sta vivendo una fase politica di silenzio soprattutto nel centro-destra Allora quindi il primo obiettivo che penso di aver raggiunto è stato quello di attivare tutta una serie di interessamenti della politica sulla questione Agropoli I partiti attualmente ad Agropoli non sono ancora strutturati si stanno riorganizzando però noi abbiamo la necessità visto che questa città a nostro avviso non è amministrata bene di avviare sin da subito un discorso politico che possa portare una proposta alternativa e allora abbiamo deciso insieme a un gruppo di persone che mi supportano in questa battaglia di anticipare Agropoli è stata sempre abituata negli anni che gli ultimi mesi prima della tornata elettorale si presentavano delle liste si cercava di fare qualcosa noi vogliamo partire da molto prima degli altri coalizzare dietro a dei progetti non vogliamo entrare in determinate critiche o determinate polemiche ma vogliamo analizzare le problematiche della città studiarle, fare dei progetti, delle proposte quindi noi andremo avanti illustrando nel breve periodo i nostri loghi delle liste le connotazioni delle varie liste le persone che adireranno a questo progetto i progetti che vogliamo portare avanti in modo che non si arriverà poi in campagna elettorale col classico opuscoletto noi faremmo questo ma noi avremo già l'idea di quello che dovrà accadere in meglio per la città subito dopo la tornata elettorale bisogna rilanciare turisticamente Agropoli perché Agropoli non ha un assessore al turismo quindi non è una città turistica una città che non ha un assessore al turismo per fare questo bisogna rendere la città accogliente accogliente per i turisti perché a volte ad Agropoli si parla che la qualità del turismo non è adeguata ma la qualità del turismo è adeguata alla proposta turistica di una città e quindi bisogna partire da qui per poi portare un incremento di investimenti dei privati su una città perché se una città non è appetibile per i turisti non lo sarà nemmeno per gli imprenditori nemmeno per i marchi importanti che vogliono investire in quella città quindi secondo me arriveremo all'indomani delle elezioni già con una proposta seria di rilancio turistico in cui vi sarà un aumento di livello di proposta con un incremento anche di investimenti da parte dei privati quindi questa è la cosa che si deve fare diciamo l'obiettivo come lei già ha detto è quello di avere un fronte del centro-destra unita se non si dovesse realizzare questo obiettivo lei procederà in senso civico? Io ritengo di rappresentare il centro-destra ma non inteso come la sintesi dei partiti centro-destra io mi rivolgo all'elettorato di centro-destra Agropoli è una città di centro-destra perché alle politiche il centro-destra ha sempre vinto e io mi rivolgo a quelle persone al di là di quello che faranno i partiti che hanno le loro sensibilità le loro dinamiche le loro cose io andrò avanti in una candidatura di spiccato indirizzo di centro-destra al di là di quello che vorranno fare i partiti e che io rispetto sin da adesso Un nuovo dono celebrativo e formativo è arrivato ai ragazzi delle scuole di Sala Consilina dall'amministrazione comunale dopo la Costituzione italiana per i diciottenni ai bambini il segnalibro celebrativo del 25 aprile vediamo Pur non potendo celebrare la giornata del 25 aprile l'amministrazione comunale di Sala Consilina ha voluto comunque raggiungere i giovani per sensibilizzarli sui temi legati all'amor di patria Da diverse settimane l'amministrazione Cavallone ha dato il via di iniziative di volte ai più giovani prima con la consegna presso le abitazioni dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno 2020 del testo della Costituzione italiana e nei giorni scorsi facendo recapitare nelle scuole dei segnalibri dedicati al tema della libertà attraverso una citazione di Pietro Calamandrei due iniziative rivolte ai ragazzi salesi per risvegliare in loro il sentimento di difesa dei diritti e della Costituzione italiana ed in particolare nei suoi principi fondamentali Per trasmettere quindi ai giovani il valore della Costituzione si è pensato al dono del volume la cui consegna presso le case dei neo 18 anni è stata completata nei giorni scorsi Per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie invece si è pensato al segnalibri con una frase che stimola verso la difesa della patria e dei diritti è raggiunta l'ora di resistere è raggiunta l'ora di essere uomini di morire da uomini per vivere da uomini questo lo scritto riportato sul segnalibri celebrativo con l'amministrazione che nell'annunciare l'iniziativa ha citato anche una frase di Calamandrei la libertà è come l'aria ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare dopo che nel mese di marzo è stata consegnata una copia della Costituzione e neomaggiorenni salesi spiega l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Francesco Spinelli continua l'azione dell'amministrazione volta a condividere con i cittadini in modo particolare con i più giovani i precetti fondanti della nostra società e della nostra democrazia la consegna della copia della Costituzione così come quella di questi segnalibri spiega sono soltanto piccoli gesti ma fatti assecondando la speranza di voler provare a incuriosire i più giovani in modo tale che così possono essere spinti ad approfondire determinati temi che rappresentano i fondamenti della storia italiana e quindi di quello che siamo sono state rinnovate le cariche della FENAI il palberghi della provincia di Salerno Marco Sansiviero titolare del Best Western Hotel La Conchiglia di Palinuro è il nuovo presidente nel consiglio direttivo ci sono due imprenditori del Vallo di Diano Antonio Marino dell'Hotel Magic di Atena Lucana e Alfeo Cancellaro del Villa Cosilinum di Padula Grande soddisfazione è stata manifestata dai docenti e dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Pisacane di Padula per il grande lavoro e la evidente capacità mostrata da un allievo, Antimo Chiariello che ha raggiunto la menzione speciale al concorso di fisica premio Caglianiello 2021 vediamo i dettagli Ancora un importante risultato per un allievo del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula che nella giornata di ieri ha festeggiato l'ottimo piazzamento di Antimo Chiariello studente della terza B che ha partecipato al concorso di fisica premio Caglianiello 2021 promosso dall'Università di Salerno il giovane allievo del liceo Pisacane si è infatti classificato nella graduatoria degli alunni meritevoli con menzione speciale un risultato che lo vedrà tra i premiati alla cerimonia in programma a fine maggio nell'ambito della conferenza conclusiva del premio che si svolgerà in modalità online menzionati per essersi distinti nella partecipazione al concorso anche gli alunni Gennaro Gaito della classe quinta B Carmine De Paola e Vincenzo Pinto della terza B il liceo di Padula è l'unico a rappresentare l'area del Vallo di Diano nella graduatoria di attribuzione del premio il premio Caglianiello è stato istituito dall'Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno per onorare la memoria dell'emminente scienziato ed educatore professore Edoardo Caglianiello al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano l'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori delle province di Salerno Avellino e Benevento la prova consiste nella risoluzione di alcuni problemi di matematica e fisica di cui una traccia in inglese grande soddisfazione per il risultato ottenuto dagli studenti del liceo Pisacane è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria D'Alessio Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti a tra poco Bentornati in studio proseguiamo con il nostro telegiornale con la campagna in zona gialla ritornano in presenza anche gli studenti dell'Università di Salerno soprattutto quelli dei primi anni di corso vediamo Ripartono le attività didattiche in presenza anche all'Università di Salerno in accordo con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane in seguito alla collocazione della campagna nella zona di rischio gialla da ieri sono ritornati a seguire le lezioni del secondo semestre per l'anno accademico 2020-2021 in presenza gli studenti dei primi anni di corso viene comunque garantita la possibilità di fruizione anche da remoto secondo i piani di organizzazione delle attività didattiche già adottati possono svolgersi in presenza anche le lezioni e i seminari dei corsi di dottorato di ricerca garantendo la possibilità di fruizione delle attività anche a distanza inoltre fanno sapere dall'UNISA si possono svolgere in presenza anche le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio incluse quelle svolte in campo anche all'esterno delle sedi dell'Ateneo e quelle attività finalizzate alla produzione delle tesi di laurea e di dottorato e i tirocini dei corsi di studio dell'area medica sanitaria odontoiatrica e farmaceutica in presenza anche le prove pratiche degli esami finali abilitanti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infine modalità di svolgimento in presenza anche per le sedute di laurea dei corsi di laurea magistrale garantendo comunque la possibilità di svolgerle a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerle in presenza investi in te stesso è stato il tema del webinar che si è tenuto nello scorso fine settimana al Cicerone rivolto agli studenti ITIS IPSIA con la collaborazione di Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo Didiano i dettagli investi in te stesso è stato il tema dell'incontro sul web che si è tenuto nello scorso fine settimana rivolto agli studenti dell'ITIS IPSIA del Cicerone di Sala Consilina supportato dalla dirigente scolastica Antonella Vairo dal responsabile job placement Antonio Rosciano e dai docenti degli indirizzi interessati in collaborazione con Maria Antonietta Aquino rappresentante della Confesercenti Vallo Didiano l'evento ha permesso agli studenti degli indirizzi ITIS Sistema Moda e IPSIA di conoscere le realtà occupazionali del territorio gli argomenti trattati hanno riguardato le opportunità dei giovani diplomati di accedere al mondo del lavoro in particolare se è discusso di tirocini bonus occupazionali apprendistato garanzia giovani resto al sud opportunità di colloqui post diploma con aziende associate progetti europei all'incontro hanno preso parte diversi giovani imprenditori rappresentanti di note aziende del Vallo Didiano che hanno interagito con gli studenti il webinar ha rappresentato l'occasione di confronto e apprendimento per far comprendere alla scuola le richieste delle aziende del territorio e alle imprese i programmi dei diversi indirizzi scolastici molto soddisfatta la dirigente scolastica Antonella Vairo per l'esito dell'evento curato dall'animatore digitale Antonio Anzalone Ora parliamo di sport nei mesi di maggio e giugno nel Parco dei Mulini a San Pietro al Tanagro ci saranno attività sportive ciclistiche con l'associazione ciclo team Tanagro vediamo il servizio Il Parco dei Mulini a San Pietro sarà un'area di ritrovo per attività sportive ciclistiche nei prossimi mesi di maggio e giugno il comune guidato da Domenico 40 infatti ha approvato con delibera di giunta di concedere gratuitamente l'area di proprietà comunale all'associazione sportiva dilettantistica ciclo team Tanagro per le attività di allenamento il comune di San Pietro al Tanagro si legge nella delibera ritiene le attività sportive come momento di aggregazione e coesione sociale da incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini soprattutto incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti sul territorio alla ideazione e realizzazione di tali attività dunque la proposta dell'associazione ciclo team Tanagro è stata ritenuta meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che l'amministrazione comunale intende promuovere le attività culturali sportive e dedicate al tempo libero con particolare riguardo alla socializzazione giovanile e anziana così come previsto dallo statuto comunale il parco dei mulini inoltre sarà curato e riordinato dall'associazione sportiva nel corso dell'utilizzo per gli allenamenti l'amministrazione comunale si specifica nella delibera ha inoltre considerato il progetto degno di sostegno in quanto volto alla promozione dello sport e per la grande rilevanza sociale che svolgono le manifestazioni sportive per ragioni anche di aggregazione e sviluppo della coesione sociale ed è tutto per l'appuntamento di questa sera grazie per averci seguito continuate a restare con noi a tutti buon proseguimento di serata